Bentornati ragazzi, quest'oggi andremo a parlare di come risolvere il problema della zampa di elefante oppure elephant foot. Non stiamo parlando ovviamente di zampi di elefante vere e proprie o di pantaloni a zampa degli anni 70 ma stiamo parlando di un problema abbastanza comune che si riscontra nelle stampe specialmente quando le guardiamo dal lato, anzi unicamente quando le guardiamo dal lato del primo strato cioè quello che poggia sul piano di stampa. Il video nasce per uno spunto dei patrons che ringrazio tantissimo e molti mi hanno scritto qualche qualche messaggio privato e alla fine si risultava essere sempre questo problema della zampa di elefante e c'era sempre comunque un modo di risolverla quindi ringrazio tantissimi patrons se non sapete che cos'è patreon qui in alto vi compare il link per poter visitare la pagina patron e eventualmente supportare il canale. Quindi tornando alla zampa di elefante il problema principale che si legge nei vari gruppi facebook oppure ho letto anche articoli di siti importanti molti danno come prima causa che cosa il peso dell'oggetto che viene costruito cioè immaginiamo di costruire un cubo vuoto che depositerà sennò qualche gramma di materiale ecco la causa per quei siti è il peso degli strati sovrastanti che va a schiacciare i primi cioè ci sono rimasto un po' di merda oggettivamente cioè non è corretto dire una cosa del genere perché non è quel peso lì che schiaccia gli strati ok la cosa molto molto più semplice per chi non vuole guardarsi tutto il video diciamo la causa principale di questa zampa di elefante è semplicemente una errata regolazione dello z offset del primo layer se non lo sai qui in alto troverai un video che è picchissimo in cui ti spiego come regolare correttamente il primo il primo strato se noi ovviamente lo schiacciamo troppo cioè se noi mettiamo il nozzle il lugello troppo vicino al piano di stampa questo qui di conseguenza si schiaccerà tutto ma lo vedremo lo vedremo più tardi nel corso del video anche ti farò vedere alcuni tipi di risoluzioni perché magari non è solo quello dello z offset la risoluzione ce ne sono anche delle altre quindi rimane fino in fondo il video non è lunghissimo e andiamo a vedere quali sono i metodi più utilizzati per risolvere questo problema sostanzialmente la zampa di elefante è quella sorta di peletto chiamiamolo rigonfiamento che c'è alla base delle stampe come vedi in video alle volte è più evidente oppure meno evidente dipende da da quanto è schiacciato il primo layer o eventualmente se hai sbagliato i flussi di stampa e quindi hai una stampa troppo grassa al primo al primo layer passami il termine grassa e di conseguenza questo peletto potrebbe darti fastidio quando quando hai dei pezzi che devono andare ad incastro certo prova immaginare un cilindro con la sua sede da un lato magari quindi nella parte terminale dell'oggetto l'oggetto è abbastanza in tolleranza ma nella prima parte lui sborda completamente cioè se andate a misurarlo con il calibro la parte inferiore risulta completamente fuori tolleranza ok quindi se avete impostato una base da 20 mm se schiacciate troppo il primo layer vi verrà fuori anche 20.5 e quindi vanno a farci bene dire tutte quante le tolleranze che avete impostato io con questo esempio che vedete a video ho fatto una semplicissima diciamo test di tolleranze per quanto riguarda l'incastro con un cilindro relativo a sede parte da uno 0.1 arriva uno 0.4 e vi faccio vedere due casi in cui praticamente vedete il primo quello quello azzurrino presenta uno z offset quindi una prima regolazione dello strato di stampa abbastanza buona comunque un po schiacciata e vedete che comunque sia quello 0.3 e lo 0.4 si riescono a togliere tranquillamente i pin e non rimane bava alla base quindi vedete proprio che la parete fa un bel 90 gradi e non ha un rinconfiamento alla fine quello rosso invece stesso file stesso tutto l'ho messo su una stampante però volutamente regolando il primo strato un po più schiacciato la prima cosa che notate è che quando va a depositare il filamento notate subito le crestine vedete di una sorta di ondine la deposizione non è mai bella pulita è frastagliata i numeri o le lettere alla base vengono fuori sempre un po più bruttini non si vedono e soprattutto come vedete rispetto a quello con lo z offset corretto cosa cosa c'è che i due pin da 0.3 e 0.4 si staccano nell'altro già quello da 0.4 si staccava malapena quindi come vedete il gap l'aria c'è in quello regolato giusto mentre in quello regolato male non vedete nulla è tutto quanto schiacciato assolutamente buono ovviamente tenere un layer più schiacciato al primo strato per un semplice motivo di adesione cioè lui aderisce meglio specialmente quelle stampe molto grandi più noi schiacciamo al primo strato più questo rimarrà aderente al piano di stampa e non avremo effetti di warping warping che tra l'altro puoi andare a vedere tranquillamente nei video che ho fatto tanto tempo fa lo trovi linkato da qualche parte come al solito e in pratica qual è il problema è che però se lo schiacciamo troppo dopo noi andiamo a incorrere in questi problemi quindi se abbiamo dei pezzi d'incastro poi dopo diventiamo matti ci tocca starli a sbavarli ed è una rottura di scatole esiste comunque una serie di diciamo di escamotage per per andare a vedere di risolvere questo problema la prima soluzione ovviamente è quella relativa alla regolazione del primo strato io ti consiglio di attivare se ce l'hai il baby stepping nel firmware e di agire direttamente dal primo strato che viene depositato e ad occhio ti regoli a seconda di quanto vedi più o meno schiacciato il primo strato quindi stop questa qui è la cosa la cosa più semplice poi passando agli slicer e adesso vi farò vedere anche a monitor direttamente come agire in realtà tutti gli slicer permettono una sorta di compensazione o un modo per compensare il primo strato in modo tale da non far comparire la diciamo la zampa di elefante però prima di tutto assicuratevi di avere una buona regolazione del flusso di stampa quindi con le regolazioni dell'extrusion width il thin wall cube tutte cose che abbiamo visto che vi linko qui in alto nel video comunque qua sotto in descrizione trovate tutti i video prima di tutto dovete essere sicuri di quello che state estrudendo cioè se siete sicuri di estruder correttamente alle giuste larghezze di estrusione allora potete andare a vedere anche le compensazioni delle di questo valore della zampa di elefante altra cosa una cosa che potete agire sulla quale potete agire in maniera veloce però non da sempre risultati sperati è quella di diminuire il flusso di stampa per il solo primo strato non tutti gli slicer lo permettono in particolare super slicer cura e idea maker permettono di gestire il flusso solo per il primo strato e dopo anche per quelli seguenti frusa slicer e gli altri in realtà anche simplify 3d non lo permettono però vabbè questo qui è un modo diciamo spiccio ma non sempre che non dà sempre risultati sperati andiamo a vedere nel dettaglio quali quali parametri su quali parametri agire nello slicer per ottenere un buon primo strato per far sì che questo bello oggettino si stampi correttamente andremo a vedere come impostarlo anche nello slicer allora vedete qui sono state date delle tolleranze che non sono altro che i decimi di millimetro espressi come distanza tra il bordo e il cilindro e partiamo da una 01 che ovviamente è improponibile nel senso che comunque sia anche con 01 e un primo layer super perfetto non verrà mai fuori comunque da staccarlo dallo 03 dallo 02 03 in su se il primo layer è perfetto come avete visto poco fa si staccheranno correttamente i pin allora mi ero dimenticato di dirvi prima che in descrizione trovate il link all'articolo quindi c'è un bell'articolo scritto con tutte queste belle cose qua quindi se non hai balle di vederti tutto il video sotto ti trovi anche un bell'articolo scritto e per chi volesse questo file trovate anche il link per il download di di questo file qui allora vi farò vedere tutti gli slicer tranne cura perché sapete che tanto non lo utilizzo ma comunque è possibile farlo anche su cura allora partiamo direi con i più semplici che sono prusa slicer e super slicer e dopo vi farò vedere come farlo con idea maker e simplify 3d perché è un po diverso su prusa direi che prusa slicer questa quella 2.4 punto 0 tra l'altro dovrei anche farci un video se avete piacere fatemelo sapere nei commenti che magari ci do un occhio e vi spiego tutte le novità anche se in realtà sono ben spiegate nel loro nel loro blog comunque sia un ottimo ottimo programma devo dire anche con le nuove con le nuove aggiunte allora vi spiego molto brevemente per ridurre quell'effetto lì che cosa si va a fare c'è un comando specifico dentro impostazioni di stampa avanzate e dentro avanzate c'è una bellissima voce chiamata compensazione zampa d'elefante fatalità ve l'ho detto è il comando più semplice lo slicer più semplice da utilizzare perché c'è proprio questa compensazione qui ben espressa allora cosa succede dovete mettere un valore positivo ok e lui cosa andrà a fare sostanzialmente se io metto che ne so esagero ma neanche tanto esagero 0.3 mm lui cosa andrà a fare solo ed esclusivamente per il primo layer di stampa lui va a ridurmi il come si chiama il primo strato cioè me lo fa più piccolo solo primo strato in modo tale da compensare un eventuale schiacciamento dovuto all'ugello come vi ho detto prima perché se schiacciamo di più il primo layer eccetera eccetera è meglio per una questione di aderenza e tutte quante quelle menate che vi ho detto prima attenzione non vi ho detto di andare a modificare extrusion width cose del genere perché se la mettete più larga o più stretta perché uno dice vabbè allora regolo la larghezza di estrusione più stretta ma di conseguenza si riduce anche il flusso in automatico quindi non è che state risolvendo più di tanto il problema e anche se andate sotto estrusione in under extrusion dopo non è mai una buona cosa quindi lavorate con la larghezza di estrusione corretta piuttosto io in genere tendo ad allargarla nel primo strato in modo tale che si schiacci meglio e abbia più adesione quindi occhio a tenere ma ne abbiamo già parlato tantissimo negli altri video in realtà quindi teniamo fissi questi valori come vi ho detto prima quindi flusso extrusion width devono essere già calibrati e su quello andiamo a regolare esclusivamente la compensazione della zampa d'elefante allora io vi faccio vedere uno slicing a zero quindi la tengo a zero andiamo a vedere come viene fuori processa ora e nell'anteprima un attimo che mi metto dall'alto eccolo qui se vedete eccolo qui andiamo al primo la primo layer eccolo qui vedete queste qui sono le varie distanze quindi 0 1 molto vicino 0 2 0 3 0 4 eccetera eccetera se io invece attivo quel valore lì lo metto che ne so 0.3 vedrete esclusivamente il primo layer perché qua vedete primo secondo layer sono sono praticamente uguali cambia solamente la larghezza di estrusione e niente altro però il gap qui in mezzo rimane tale e quale se invece vado a dargli che ne so uno 0.3 millimetri cosa succede gli ridò processa ora eccolo qua vedete dovete stare attenti perché lui praticamente va a prendere vedete questo gap qua è aumentato palesemente infatti 0.3 era giusto per farvi vedere una cosa abbastanza evidente infatti se vedete dal secondo layer tac torna torna tranquillo nel secondo terzo quarto accordo e quinto eccetera eccetera quindi un valore medio potrebbe essere uno 0.15 di solito è sufficiente quindi regolatevi anche su quanto volete schiacciato il primo layer state attenti che però lui vi allarga e vi restringe le linee di tutto tutto cioè vedete anche le scritte in questa parte qua vengono fuori un pelo più bruttine quindi state attenti a non esagerare troppo la stessa identica cosa si ritrova su super slicer super slicer però come vedete questo qui è per uso slicer dentro avanzate avete compensazione zampa di elefante su super slicer invece dovete andare dentro slicing quindi print settings slicing io li ho in inglese perché preferisco ottenere in inglese questi qua e dopo avete la x y first layer compensation e vi dice praticamente il valore da restringere in questo caso non è positivo come su prusa slicer ma deve essere negativo quindi invece di essere 0.15 che vi ha messo prima 0.2 qua metteremo meno 0.2 la cosa interessante invece di super slicer è che ti permette non solo di gestirlo per il primo layer ma anche per eventuali successivi layer quindi invece di fare primo primo strato e basta potete fare che ne so il primo e anche il secondo che è abbastanza comodo quindi punto a favore sicuramente per super slicer non vi faccio dell'anteprima perché tanto è la stessa identica cosa di prusa slicer quindi l'effetto che si viene a creare è lo stesso per chi ha cura invece il valore da cercare è initial layer expansion quindi è un po' come funziona su vedremo adesso idea maker e simplify 3d quindi c'è anche quel valore lì su cura andiamo su simplify 3d riprendiamo in mano il caro e vecchio simplify 3d allora qui ho creato il solito diciamo il nostro bello oggettino importato e tutto quanto qui non esiste un valore effettivo per il solo primo layer cioè non esiste un valore compensazione zampa di elefante qui esiste un valore come su tutti gli slicer in realtà chiamato horizontal size compensation qui si chiama horizontal size compensation in altri si chiama in altro modo quindi ad esempio su prusa slicer la stessa identica cosa vedete era compensazione dimensioni x y solo che questo valore te lo applica a tutto il pezzo cioè ti restringe il pezzo tutto mentre la compensazione zampa di elefante fa questo valore qui ma solo al primo layer idem vale su simplify 3d questo valore prende tutto quanto il pezzo quindi sfruttando il il bel modo che ha simplify 3d di ragionare con i processi di stampa cosa dobbiamo andare a fare per chi è pratico gli basta semplicemente creare due processi di stampa su questo il primo processo lo facciamo partire da start printing date a 0 lo facciamo arrivare a 0.4 che ne so se sta lavorando alle da 0.2 gli faccio fare che ne so i primi due strati e poi dopo torno a una diciamo a una dimensione del pezzo corretta quindi i primi due strati stretti oppure mettete il valore che volete e quando andate su questo processo ricordatevi di mettere horizontal size con pesce compensation anche qui in negativo non in positivo come super usa slice mettete il valore che più vi aggrada e poi dopo fate un secondo processo normale quindi senza il la compensazione x y e poi lo fate partire da da 0.4 millimetri 0.4 millimetri e scusate 0.4 millimetri e poi dopo lo fate finire direttamente fino alla fine del pezzo quindi andandolo a vedere ci ritroviamo praticamente con questo oggettino qua andiamo al primo strato eccolo qua come vedete sono belli larghi vedete sono belle larghe le linee facciamo il primo strato secondo strato è detto uguale e dal terzo ritorna come dovrebbe essere quindi con le tolleranze corrette quindi eventuali schiacciamenti qui vengono tranquillamente compensati come vedete la cosa migliore è lavorare anche dal secondo strato se possibile specialmente se lavorate molto schiacciati al primo layer quindi prusa slice vi taglia un pelo fuori ok super slicer simplify 3d idea maker e anche cura vi permettono di gestire i layer successivi la stessa identica cosa funziona su idea maker su idea maker avete praticamente questa visualizzazione classica solita anche qui non abbiamo i processi ma possiamo praticamente differenziare che cosa questo valore questo valore è chiamato x y size compensation for control è la stessa identica cosa che abbiamo visto prima ok non prendete quello dei dei fori perché agisce solo sui fori noi dobbiamo prendere questo valore qui questo valore qui è la stessa identica cosa che vi ho appena fatto vedere su simplify 3d come facciamo applicarlo solo per i primi x layer bisogna andare dentro group and layer settings dentro qui andiamo per layer settings e dentro qui andiamo ad aggiungere col tasto più che cosa questa questa impostazione gli diciamo a partire da zero e da fino a che fino a che livello applichiamo questo questo questa compensazione mettiamo 0.6 mm ad esempio perché sono i primi tre strati che altezza strato ti direi di tenere 0.3 mm perché è quella classica che tengo io per le prime altezze mi raccomando anche qui l'adesione varia anche a seconda dell'altezza del layer ci sarebbe un video da fare dedicato su questa cosa qua in realtà il primo layer tendo a tenerlo un po più cicciotto un po più alto in modo tale da avere meno problemi se ho il piano un po imbarcato qualche asperità sul piano eccetera eccetera con il tasto matitina invece possiamo entrare e andare a modificare i parametri che possiamo metterci ad esempio da 0 a 0.6 mm che cosa vogliamo modificare nel nostro caso dobbiamo andare a mettere quel valore lì che abbiamo visto prima quindi l'xy size compensation for contours lo aggiungiamo e semplicemente ci viene piazzato qua gli do un valore anche qui negativo quindi meno 0.3 mm gli do ok vediamo se l'ha preso eccolo qui sì l'ha preso perfetto e sì quindi se volete modificarlo entrate nella matitina vedete quali altri valori qui potete modificare tutto in realtà è una funzione molto molto potente si potrebbe vederla anche in un video dedicato e basta quindi abbiamo questa cosa qua gli diamo slice lui dice sì ti override eccetera eccetera sì gli dai ok andiamo a vedere l'anteprima e anche qui nell'anteprima primo strato vediamo primo strato bello largo come vedete secondo strato bello largo adesso ho lasciato attivo anche i supporti non dovevo terzo strato tac eccolo qui che ritorna tutto quanto come deve essere quindi anche qui compensazione zampa d'elefante fatta per i primi due strati esiste un terzo modo per evitare questo problema qui e bisogna però lavorarlo a livello di modellazione ovvero quando stiamo parlando di modellazione e qui purtroppo non vale sempre nel senso che dipende dipende dal pezzo questo qui è un pezzo che è abbastanza semplice però noi possiamo simulare la compensazione della zampa d'elefante ovviamente o lo facciamo sul CAD o lo facciamo sullo slicer non mixate le due cose altrimenti vengono i pezzi larghi enormi lasciamo perdere allora si tratta di andare ad applicare un smooth a 45 gradi il tasto chamfer se io sto usando fusion 360 ma questo comando c'è praticamente su tutti gli slicer e su tutti i CAD in commercio si tratta di prendere uno spigolo e applicargli che ne so uno smooth di 0.8 mm indicativamente in modo tale che il primo strato venga fuori vedete più stretto del resto può essere anche 0.5 mm non deve essere una cosa enorme va su a 45 gradi quindi non ha bisogno di di supporti ma anche in realtà non cioè è tutta una cosa che si compensa questa cosa qui neanche dovreste riuscire a vederla se siete tanto schiacciati e stessa cosa la potete applicare sia all'esterno così come anche eventualmente ai pezzi stessi vedete se volete che questi pin si incastrino e vengano vengano via correttamente potete applicarlo in tutte le zone in cui è necessario quindi vedete sia all'interno che all'esterno oppure in genere solamente uno dei due e all'esterno ovviamente per rimanere in tolleranza e per avere il pezzo finito correttamente come vi dicevo prima occhio perché questa cosa qui non è detto che funzioni in particolar modo quando avete forme molto molto complesse alla base e avete disegnato cose molto grandi cioè con tante cose spigoli raccordi dove varie potrebbe non funzionare ricordi inoltre che se stai utilizzando additivi tipo dim fix magigoo plasta tutte quelle cosine lì che si mettono sui piani di stampa in vetro e non con quelli là puoi anche permetterti di tenere un primo strato un pelo più altino non doverlo schiacciare molto perché quelli là quegli additivi tendono a fare parecchia parecchia tenuta quindi sono sostanzialmente prove che devi fare non esiste un valore assoluto quello che ti consiglio è sicuramente di lavorare con il baby stepping perché è una delle cose più belle che esistano lo attivi dal firmware direttamente e col primo strato appena parte la stampante alzi o abbassi e ti regoli perfettamente e vai ad occhio insomma dopo un po di stampe capisci immediatamente quando il pezzo sta aderendo bene oppure no quindi primo consiglio che ti do è sicuramente il baby stepping poi passi al flusso se proprio proprio vuoi lavorare di fino oppure con questi metodi che ti ho detto dei vari slicer che è davvero davvero comodo bene ti avevo promesso un video abbastanza breve ci sono quasi riuscito e se hai qualche dubbio ricordati qui sotto nei commenti lasciami scritto cosa non ti è chiaro se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace ricordati di iscriverti al canale mi raccomando attiva la campanellina così puoi vedere tutti i video e ricordati anche di dare un'occhiata al nostro canale patron ed eventualmente supportare il canale vi ringrazio a tutti e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi